Il nuovo governo innalza il tetto al contante? La sinistra fa le barricate. Tracciare i pagamenti non serve a combattere l'evasione fiscale, ma a monitorare la vita delle persone. Di Ruben Razzante. Si è scatenato un vero e proprio vespaio attorno all'idea, ventilata da ambienti del nuovo governo, di rivedere il tetto al contante. C'è chi si è opposto, sostenendo che non può e non deve trattarsi di una priorità in una fase della vita del paese, in cui l'urgenza più immediata appare quella di intervenire sul carro energetico e le bollette. Per alzare la soglia di tolleranza nell'uso di banconote bisognerebbe aspettare tempi più sereni, rilevando alcuni settori dello stesso centrodestra, mentre da sinistra sono piovute critiche feroci al provvedimento che l'esecutivo starebbe mettendo in cantiere, e che secondo PD e 5 Stelle sarebbe un regalo alle mafie. La questione è di per sé molto semplice. È giusto limitare l'uso del contante nelle transizioni costringendo i consumatori a pagare con carte di credito e sistemi che consentono il tracciamento delle operazioni e che in linea teorica riducono i rischi di evasione fiscale e riciclaggio di denaro? Messa così, la scelta in favore dei pagamenti trustless potrebbe essere una ratio. Tuttavia basta leggere numerose valutazioni della Banca d'Italia oppure scrutare le realtà d'oltre confine per smontare il teorema di quanti sostengono l'equazione tra maggiore uso del contante e maggiore illusione. In Austria e in Germania, tanto per citare solo due esempi, la circolazione delle banconote è libera eppure la gente paga regolarmente le tasse o comunque gli evasori sono molti di meno che in Italia. Alcuni economisti internazionali hanno fatto notare che ormai il nero è sempre più digitalizzato e le grandi somme di denaro si spostano eludendo i fragili confini nazionali. Senza dimenticare che le criptovalute e gli NFT sono sempre più spesso lavatrici per riciclare denaro in massicce quantità. Le banconote da 50 o 100 euro sono ormai innocue da questo punto di vista e la loro diffusione non va in alcun modo messa in correlazione con l'incremento dell'evasione fiscale. In questo senso è pura demagogia populista a evocare, come ha fatto l'ex premer Giuseppe Conte, l'immagine delle valigie teppine di mazzetti di denaro che tornerebbero di moda in caso di approvazione dell'inalzamento a 10.000 euro del tetto all'uso del contante. A parte il fatto che nulla è stato ancora deciso e che l'ipotesi più probabile è che l'inalzamento non superi i 3.000 o al massimo i 5.000 euro. Tuttavia occorre andare oltre l'analisi della singola questione con tante sì con tante no e risalire alla matrice ideologica di tale ordine di pensiero. Che cosa c'è dietro? Che cosa ispira la demonizzazione del contante che vede in prima linea PD e 5 stelle? È possibile che il capitalismo di sinistra in passato protagonista di grandi speculazioni di Stato ai danni dei cittadini contribuenti possa avere realmente a cuore la lotta all'evasione fiscale e che per converso il centrodestra al governo sia sempre sinonimo di complicità con la malavita? Evidentemente le cose non stanno così perché l'evasione fiscale c'è sempre estate e ci sarà sempre a prescindere dal colore dei governi in carica e la circolazione del contante non incide più di tanto su di essa. La verità è che una più alta disponibilità di contante oltre che stimolare i consumi produce tutta una serie di benefici dall'alzeramento dei costi bancari e delle transizioni alla maggiore fluidità del denaro anche in fasce di popolazione anziana che non hanno particolare familiarità con le tecnologie e che sono frenate nelle spese correnti proprio dal vincolo di dover pagare con carte di credito delle quali sovente non dispongono. Ma la sinistra si ostina a considerare il contante uno strumento intrinsecamente illegale perché sotto sotto coltiva il desiderio di controllo delle libertà già sperimentato con successo con il Green Pass e in passato con altre limitazioni. È una visione di società quella che sottende la battaglia contro l'uso del contante. Tracciare sia pure in forma anonima le transizioni e gli acquisti di beni e servizi risponde a una mania di controllo delle vite dei cittadini in vista di quell'euro digitale che fra 5 o 10 anni potrebbe soppiantare del tutto le banconote e ricondurre esclusivamente alla sfera virtuale ogni operazione economica dei cittadini europei. Una sorta di grande fratello economico finanziario che apparentemente preserva l'anonimato dei singoli ma in realtà produce un sistematico monitoraggio delle identità virtuali in funzione di una profilazione massiccia e pervasiva delle esistenze individuali. Dunque non è tanto preoccupante che qualcuno si opponga all'uso del contante quanto è piuttosto che attraverso prese di posizione del genere si voglia ipotecare la libertà individuale con attività di tracciamento lesive della dignità del cittadino consumatore e risparmiatore.